E il Davis Trophy Tour, tante iniziative non solo legate al tennis ma anche alle altre discipline all'interno della Federazione Italiana Tennis, ovvero il padel, il beach tennis, il pickable, il tutto per celebrare la storica e indimenticabile vittoria di Malaga conseguita lo scorso novembre dalla Nazionale Azzurra di Coppa Davis, che ha portato, grazie al successo per 2-0 sull'Australia, l'insalatiera in Italia dopo 47 anni. Il Davis Trophy Tour fa tappa in Sicilia presso lo scenario del Teatro Massimo all'esterno del quale verranno allestiti due minicampi da tennis. Poi ci si sposterà al CT Palermo che ha ospitato ben cinque edizioni della Coppa Davis e l'ultima delle quali nel 1995 con il match tra Italia e USA di Pete Sampras e Andrea Gassi, concluso con il successo degli Stati Uniti per 5-0. A Palermo si parlerà non solo dello storico trionfo di Malaga, ma anche dello straordinario momento che vive il tennis azzurro. Da oltre un anno a questa parte sia al maschile che al femminile, al Country Time Club, dal prossimo mese sarà anche Teatro del Palermo Ladies Open, prova del WTA 250. La Coppa Davis potrà essere ammirata e fotografata anche a Catania e Messina, rispettivamente il 22 e il 23 luglio in una delle sale del comune, e nei due giorni successivi al CT Vella, la cui compagine maschile è campione in carica di serie A1.